Sì, ok, ciao. Sì, no, semplicemente Di Maio sta pagando Davide Casaleggio e Di Maio stanno uscendo, hanno pagato il conto. Martino è in diretta sulla SES. Si chiude i forni di chi lavora all'orso, insomma. Non vi dichiaro niente, grazie mille. Di Maio, non spingete. Ascolterà Gentiloni in aula. Apertura del PD, c'è un passolo, un super-treme. Sì, bisogna fare un spazio di Berlusconi. Grazie mille. Vabbè, ci sono pello.